La cosa che più colpiva in lui era quel sorriso un po' beffardo di uno a cui non gliela fai, a quegli occhi vispi, furbi, con lo sguardo sempre un po' più in là, avanti. Era un uomo rigoroso e coraggioso, allottato per i diritti dei lavoratori e per i diritti della sua terra per oltre 40 anni, ma questa notte a soli 66 anni si è arreso alla malattia che lo aveva colpito dopo il pensionamento. Domenico Ghirardi aveva ancora molto da dare alla vita, alla famiglia, alla moglie, al figlio e ai due nipotini, al sindacato, alla Valle Camonica. Mancherà e non solo la CGL, mancherà la sua conoscenza storica delle vicende camune degli ultimi decenni, mancherà perché era un uomo giusto. La sua attività sindacale ha segnato tutta la sua vita, il suo impegno, la storia della Valle Camonica e delle sue vicende industriali, ha attraversato i momenti più difficili della nostra economia a partire dal tessile e dalla sua devastante crisi. Ha iniziato a fare la sua attività sindacale nei laboratori artigiani, quindi ha fatto un'iniziativa che è stato addirittura a livello nazionale di tutela dei diritti delle lavoratrici nei lavoratori. Intensa la sua attività dentro la CGL, da delegato sindacale eletto nel 1973 era passato dopo la nascita del comprensorio Camuno a dirigere la categoria dei tessili, poi quella degli edili. Successivamente era entrato nella segreteria della Camera del Lavoro per diventare segretario generale. Qui sono note le sue battaglie sulla tutela della salute dei lavoratori e sul tema della viabilità. Tutte le iniziative fatte rispetto anche ai problemi che c'erano, ci ricordiamo che in quella fase ha scattato anche la questione delle tangenti. Poi nel periodo della segreteria per il riconoscimento delle malattie professionali dipendenti a Xucar e Dolomite ha portato a dei risultati importanti e quindi queste malattie professionali sono state riconosciute e quindi anche un indennizzo ai lavoratori interessati o alle famiglie. Dal 2009 al 2017 aveva ricoperto la carica di segretario generale dello SPI. Dopo il pensionamento aveva continuato a collaborare come volontario nella sede di Edolo. Solo pochi giorni fa, nonostante la malattia, aveva pubblicato sul giornale dei pensionati Lombardi le sue riflessioni sul sindacato, una sorta di testamento. Lascia un segno importante, ha dimostrato anche nel confronto sul piano istituzionale di avere un'autorevolezza. È un compagno che ha insegnato molto alla nostra organizzazione. È uno che ha difeso la struttura comprensoriale come una struttura che doveva rimanere. Infine Domenico non è stato solo un collega o un dirigente della CGL per molti che hanno lavorato con lui e soprattutto per Gabriele Calzaferri. Domenico per me è stato oltre che un collega più che un fratello. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 marzo alle 14.30 con rito religioso presso la Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Malonno.